Come tutti sappiamo, ieri il governo Monti ha approvato il decreto Salva Italia. È stata una giornata lunga, per certi versi drammatica, al termine del quale il Consiglio dei Ministri ha approvato questo decreto e il Presidente Monti si è presentato in televisione per spiegare le misure e per spiegare la necessità di queste misure. Di fronte a tutto questo noi dobbiamo sfuggire alle tentazioni facili. Non possiamo ovviamente dire che tutto va bene, spiegherò perché, ma non possiamo neanche contrapporci a questa manovra con l'atteggiamento di chi in qualche modo solletica la protesta. Lasciamo alla Lega questi atteggiamenti. Noi vogliamo essere costruttivi, vogliamo essere comunque dalla parte dell'Italia, perché soltanto così riusciremo a essere dalla parte della nostra città. E allora cerchiamo di capire quali sono gli impatti di questa manovra sui Romani e come bisogna confrontarsi con essi per dare delle risposte che non ricadano troppo sulle spalle dei cittadini. I Comuni italiani, e tra questi ovviamente Roma Capitale, sono stati colpiti da una serie di manovre che hanno aggravato nel tempo la situazione del patto di stabilità, cioè della possibilità di fare investimenti, e quelli che sono i trasferimenti che vengono dallo Stato ai Comuni. Ho già detto che più volte siamo stati messi in una grave difficoltà rispetto a questi interventi. Oggi abbiamo compiuto un altro passo in questa direzione purtroppo, perché se è vero che il patto di stabilità non è stato toccato, è rimasto quello delle precedenti manovre, abbiamo una riduzione di 1 miliardo e 400 milioni di trasferimenti per tutti i Comuni, e per Roma significa circa il 10%, 140 milioni in meno. Questa riduzione dei trasferimenti viene compensata attraverso una serie di tasse che vengono intestate agli enti locali, ma che in realtà sono state decise all'interno della manovra. C'è la cosiddetta IMU, Imposta Immobiliare Unica, che riunisce l'ICI, anche sulla prima casa, con quella che è l'IRPEF sugli affitti, e quindi una imposta nuova, ma che graverà sulle spalle ai cittadini proprio per recuperare quel miliardo e 400 milioni. C'è il trasporto pubblico locale, in cui il fondo è stato ricostituito, ma anche qui attraverso un aumento delle accise sul carburante. Ecco, questo è il problema che abbiamo di fronte. Ci sono spazi per chiudere i nostri bilanci, per fare in modo di portare a termine quelli che sono gli interventi, la sostenibilità complessiva della vita di Roma Capitale, ma la ricaduta è una ricaduta pesante sulle spalle dei cittadini. Cosa dobbiamo fare in fronte a tutto questo? Beh, ovviamente noi siamo schierati per ridurre gli effetti negativi di questa manovra. L'abbiamo già fatto ieri, io sono andato insieme al Presidente del Rio, del Lanci, dell'Associazione Comuni Italiani, proprio a rappresentare necessità e in questo incontro molti miglioramenti sono stati fatti, la manovra prima era peggiore per i cittadini, qualcosa in più è stato fatto. E altro faremo ancora, perché noi siamo convinti che le imprese e le famiglie della nostra città debbano essere tutelate, le imprese debbano poter investire, debbano poter avere i pagamenti, le famiglie, soprattutto quelle numerose, quelle con minor reddito, debbano essere protette dalla crisi sociale. E quindi continuerà la trattativa e la nostra presenza, noi abbiamo già in calendario un incontro con il Ministro Giarda per fare in modo di individuare le forme di cambiamento del patto di stabilità che ci permettono sostanzialmente di dare nuovo fiato alle imprese e attraverso questo aumentare i posti di lavoro. Però una città come Roma non si può limitare soltanto alle trattative con il governo, noi dobbiamo essere attenti, critici, non dobbiamo lasciare nulla diciamo così scontato, nulla abbannato a se stesso, ma dobbiamo fare anche molto su noi stessi, dobbiamo dare una grande spinta all'economia sapendo che attraverso questa spinta verranno anche le risorse per le misure sociali e le risorse per sostenere il reddito delle famiglie. Allora io proprio oggi, all'indomani di questa manovra, ho pensato di inviare a tutte le parti sociali, alla Regione, alla Camera di Commercio, alla provincia, a tutti i diversi attori che sono presenti dentro il nostro territorio, un documento in cui si indicano le strade per rilanciare l'economia del nostro territorio. Se c'è una crisi economica dobbiamo fare tutti la nostra parte per sconfiggere la crisi economica, non limitandosi a giocare in difesa, non rassegnandoci alla crisi, dobbiamo sfidarla alla crisi, abbiamo noi l'energia per vincere la crisi, siamo degli italiani, siamo dei cittadini di Roma, questa forza che viene alla nostra creatività, alla nostra intelligenza deve essere messa in campo, non possiamo assolutamente fermarci e sappiamo che la strada maestra per uscire dalla crisi è rilanciare lo sviluppo, non solo tenere in ordine i conti pubblici. E allora il nostro documento dice alcune cose essenziali, innanzitutto quello che è già in corso, che non è poco, noi stiamo completando in questi mesi la rete metropolitana con un grande investimento, l'Eniac, tengo a sottolineare la più grande opera pubblica in costruzione del nostro paese e viene costantemente finanziata da quest'ente locale insieme alla Regione e al Governo. Abbiamo ottenuto il decreto di Roma Capitale, vi ricordate, la prima riunione del Consiglio dei Ministri del Governo Monti è stata dedicata all'approvazione del decreto Roma Capitale che ci permetterà alla fine di questa consigliatura di avere una governance più veloce, di avere la possibilità di fare decisioni più rapide e più efficaci, una diversa dignità per la nostra città che non può essere un comune qualsiasi. Abbiamo inaugurato insieme al Capo dello Stato e al Governo la stazione di Roma Tiburtina, una stazione importante che è stata fatta con la collaborazione di Roma Capitale e che è una bellissima infrastruttura che sarà completata dal nostro intervento che rimetterà a posto sia la zona di Tiburtina sia la zona di Pietralata e lo Sdo. E poi ancora sullo sviluppo urbanistico abbiamo dato una spinta, un segnale chiaro alle imprese che hanno difficoltà a investire sul terreno dell'urbanistica e dell'edilizia privata. Abbiamo rilanciato il piano delle facciate insieme alla Camera di Commercio, abbiamo dato forti incentivi a tutti coloro che vogliono rifare le facciate dei palazzi sulle vie consolari in maniera tale da avere una spinta economica ma avere anche un ritorno di immagine alla nostra città. Abbiamo lanciato il nuovo piano del commercio in cui finalmente il piccolo e medio commercio viene difeso dalla troppa forza della grande distribuzione, noi dobbiamo avere più negozi diffusi sul territorio e meno centri commerciali. Abbiamo lanciato la gara per Campidoglio 2 che darà una nuova sede, oltre quella classica del Campidoglio, alla nostra amministrazione creando un grande polo di servizi e sarà tutto fatto in project financing, un investimento da più di 200 milioni fatto attraverso l'utilizzo di risorse private. Queste sono cose già fatte. A queste vogliamo aggiungere altre cose. Innanzitutto le richieste sul governo. Noi vogliamo, come ho già detto, rivedere il patto di stabilità per fare in modo che l'anno prossimo possano continuare gli investimenti in opere pubbliche. Vogliamo che finalmente il governo sblocchi la costruzione di Fiumicino 2, il grande aeroporto che ci serve per le Olimpiadi ma che ci serve ogni giorno per collegare Roma al resto del mondo. Ci sono le risorse per farlo, bisogna aumentare le tariffe aeroportuali che sono le più basse d'Europa, ma attraverso questo investimento che vale quasi 4 miliardi noi avremo non solo un grande aeroporto per Roma ma un grande ciclo di sviluppo che coinvolge il Fiumicino e Roma Capitale. Continueremo sulla rete metropolitana, non ci accontentiamo di quello che già si sta facendo, prolungheremo le linee A e B, è stata assegnata la gara di Casal Monastero, lanceremo la linea D che è una linea che da molti anni attende di essere lanciata, quindi una spinta a risolvere il problema del traffico attraverso le metropolitane. Chiederemo poi ovviamente al governo di appoggiare fino in fondo la candidatura di Roma Capitale alle Olimpiadi e infine l'approvazione del decreto che riconoscerà la zona di Ostia e tutto il secondo polo turistico come distretto del turismo, una realtà che ci permetterà di agevolare tutti gli investimenti sul turismo nell'area che è la nuova proiezione di Roma rispetto a questo importante settore. Abbiamo poi delle richieste per esempio alla Camera di Commercio, è necessario che la Camera di Commercio spenda tutte le risorse disponibili per fare in modo di creare dei fondi di sostegno e garanzia per le imprese. Noi dobbiamo in questo momento dire anche attraverso i confidi, attraverso la BIL, attraverso i diversi fondi di investimento che possono trovare il contributo della Camera di Commercio, di dire alle imprese romane che non sono sole, in questo momento difficile si farà di tutto per non farle chiudere, ma anzi per rilanciarle con una grande spinta alla ricerca e all'innovazione. Poi ci sono i nostri impegni, sui nostri impegni come Roma Capitale mettiamo ovviamente l'attuazione del piano strategico di sviluppo, l'abbiamo presentato all'inizio di quest'anno, è una presentazione che ha dato grande interesse, oggi siamo in grado di calare sul territorio i grandi interventi, quello relativo al waterfront di Ostia, il litorale che può diventare veramente una grande attrazione turistica e non a caso è inserita nel distretto del turismo di cui parlavo prima. Parliamo di Torbella Monaca, anche Torbella Monaca si potrà dare una nuova dignità a questo quartiere che sarà un esempio del rifacimento delle periferie della nostra città, faremo delle infrastrutture per la cultura che mancano in questa città, che ha tante risorse sul versante culturale, ma per esempio manca di un museo della città che permetta ai turisti di avere una porta di accesso complessiva alla città stessa. Infine lavoreremo su quella che è la grande rete del terziario, il centro congressi dell'Euro è in costruzione rapida, ci stiamo lavorando, la cosiddetta nuvola di Fuxas è una realtà importante che ci permetterà di proiettare Roma a livello delle grandi capitali per il turismo congressuale e lo stesso vale per quanto riguarda la nuova fiera e ancora per il nuovo mercato dei fiori. Infine dobbiamo fare un grande sforzo per orientare tutto il nostro bilancio, quello che approveremo tra gennaio e febbraio verso lo sviluppo, noi dobbiamo fare in modo di ridurre tutti i costi, non dico inutili perché non ce ne sono più, ma i costi meno importanti, soprattutto quelli della macchina burocratica, faremo altri interventi per ridurre i costi della cosiddetta politica, ma noi vogliamo fare in modo che questo bilancio sia tutto orientato verso una spinta allo sviluppo, verso una spinta agli investimenti. Tutto questo deve avere però un contraltare, chiamiamolo così, sul versante sociale. Noi da queste risorse, da queste potenzialità dobbiamo dare un grande sforzo per rafforzare la solidarietà cittadina e per fare questo abbiamo intenzione di attuare realmente il quaziente familiare dall'anno prossimo con il prossimo bilancio, facendo in modo che tutte le tariffe, tutte le imposte della città siano commisurate alla famiglia, le famiglie numerose, le famiglie con poco reddito devono pagare meno imposte e meno tariffe, perché solo così si sostiene la famiglia e si sostiene la natalità. Dobbiamo lanciare, siamo pronti per farlo, un sistema di social card che aiutino le famiglie nei consumi, che aiutino le famiglie a avere un sostegno a reddito soprattutto per le fasce sociali più disagiate. È uno strumento che applicato bene, con attenzione, permette sostanzialmente di avere un punto di riferimento a chi ha veramente la difficoltà di arrivare alla fine del mese. Infine abbiamo progettato con alcune organizzazioni sindacali la fondazione di Roma Capitale Welfare, che sarà una fondazione che servirà a mettere insieme gli interessi dei lavoratori dipendenti con quelli dell'amministrazione per aiutare i lavoratori dipendenti in tutte quelle che sono le opere di sostegno al reddito. Ecco, queste sono alcune delle cose più importanti noi vogliamo fare. Aggiungo che stiamo aumentando la nostra relazione con l'Europa, siamo stati a Bruxelles la scorsa settimana, abbiamo visto con chiarezza quelli che sono gli investimenti che si possono chiedere alla BEI, Banca Europea di Investimenti, e attraverso queste possibilità di finanziamento e di erogazione noi sostanzialmente riusciremo a far arrivare anche qua a Roma dei fondi europei e delle risorse europee. Questo pacchetto sarà adesso discusso con tutte le parti sociali, lo porteremo alla Camera di Commercio, lo porteremo alle altre istituzioni del territorio, vogliamo veramente coinvolgere tutti, ne parleremo anche ovviamente in Assemblea Capitolina. Qual è il nostro obiettivo? E qua concludo. Il nostro obiettivo è di scommettere sul rilancio. Se c'è una crisi, e questa crisi genera manovre su cui bisogna vigilare attentamente perché non abbiano troppo impatto su imprese e cittadini, ma se c'è una crisi, la risposta alla crisi è accettare la sfida. Accettiamo la sfida verso lo sviluppo, ne abbiamo tutte le potenzialità, non accettiamo logiche depressive, non accettiamo logiche che ci portano in qualche modo a non credere nel futuro. Sta nei nostri compiti, nella nostra volontà di tutti i cittadini, credere rispetto al futuro. Voglio terminare con una citazione. Domenica scorsa c'è stata la giornata della cortesia. E nonostante la pioggia io ho visto tanti cittadini in diverse parti della città andare a impegnarsi nel volontariato, nel degoro cittadino, nel ripulire la città. Ho visto tanti cittadini attivi. Ho visto il signore con la ramazza in mano, ho visto persone che si mettevano in campo per ripulire la nostra città. Ecco, è stato un bel segnale. È il segnale di un atteggiamento attivo che è la grande arma che noi dobbiamo utilizzare per sconfiggere la crisi.